Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, ha avanzato una proposta all'amministrazione comunale relativa a un patto di amicizia con il Comune Trentino di Revo, che si è reso protagonista di un'importante donazione benefica nei confronti della comunità aquilana colpita dal sisma. Sì, non solo una bellissima donazione che è stata rappresentata dalla Chiesa di Coppito, che oggi viene usata per i ragazzi per fare tutti i tipi di attività, dalla più semplice a quella più complicata, ma dobbiamo ringraziare anche questi amici di Revo perché non solo ci hanno aiutato durante il terremoto, ma poi gli scambi culturali si sono susseguiti anche dopo il periodo tragico del terremoto. Tanto è vero che qualche mese fa ci hanno chiamato e abbiamo fatto sì che moltissimi ragazzi di Coppito sono andati in lì su e quindi sono stati trattati veramente come figli, quindi questo è un segno che dobbiamo conservare e dobbiamo tramandare e soprattutto dobbiamo cercare di unire con queste persone che ci sono venute a aiutare durante il terremoto. Quindi in qualche modo una riconoscenza, il San Cire è ufficialmente un patto di amicizia, tra l'altro la provincia autonoma di Trento, ricordiamo, ha donato il villaggio di Onna, l'auditorium progettato da Renzo Piano, quindi è comunque molto vicino alla comunità aquilana. Quindi speriamo, Vice Presidente Tinari, che effettivamente questo patto di amicizia possa concretizzarsi in tempi brevi. Ma sì, questo me lo auguro e ce lo auguriamo tutti quanti, anche i cittadini dell'Aquila penso che se lo augurano, ma questo è un piccolo passo perché io penso che tutti gli altri debbono avere lo stesso riconoscimento, un grande gemelaggio verso tutti quelli che si sono resi disponibili durante il terremoto per gli aquilani.